Vedi che per me era già complicato. Bene! Posso essere veloce nel muovere o no? Tutto fa! Vabbè, poi smontiamo la macchinetta. Vabbè, poi smontiamo la macchinetta. Vabbè, se vuole vedere ancora i grani, le croce... Te lo mettiamo qua? Oh, guarda, funziona! Ecco, è come niente che fai a pulire, non c'è! Non c'è, 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 non c'è... Io direi che facciamo assolutamente partire un'altra parte, facciamo assolutamente un'altra parte, facciamo un'altra parte di teoria... E' una parte più posta... E' una parte più posta...